ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono john red e prima di vedere il video vi invito se vi va mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti su amici iniziamo è tanto attesissima la messa in onda della quinta puntata del serale di amici 22 secondo le ultime anticipazioni di cui ho già fatto un video al ballottaggio finale vanno federica versus ramon su questo video vediamo che cosa dicono i sondaggi quindi ecco il risultato dei sondaggi e voi siete d'accordo con il risultato scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi va iscrivetevi al mio canale per altri news un grosso abbraccio da ciao red